Vassolino, questa discarica sarà riaperta. Questa discarica è indispensabile di fronte all'emergenza. Questa e altre discariche in provincia di Napoli e anche sul territorio regionale, perché servono più discariche. Quelle di pianura possono essere utili alla città di Napoli, a Pozzoli, a comuni esattamente vicini, ma soprattutto alla città di Napoli. Ma da sola non basterebbe, ce ne vogliono altre in provincia di Napoli, altre sul territorio regionale. Tenendo conto che il pericolo più grande viene non da discariche attrezzate e controllate, ma viene da rifiuti che restino troppo a lungo per le strade e che magari si bruciano. Quindi lei dice che l'allarme e i timori dei signori che abbiamo sentito sono infondati? No, io dico che bisogna fare tutti i controlli, perché si è fatto un accenno a vedere bene come stanno le cose, e penso che i tecnici debbano ben controllare quello che c'è sotto, dare tutte le garanzie dal punto di vista sanitario, dal punto di vista ambientale, e questo è assolutamente indispensabile.